Cari amiche e cari amici, vorrei fare insieme a voi alcune piccole riflessioni, prendendo spunto da una brevissima intervista con il filosofo russo Dugin, che potrete trovare sul sito Nuova Italia, Accademia Adriatica di Filosofia, che come sa chi segue il mio canale, è gemellata con il decimo toro. L'intervistatore chiede a Dugin, tu e le persone che con te collaborano siete considerati pericolosi, è concepibile una simile interpretazione del lavoro filosofico in corso? Dugin, certamente, e ci fa un enorme piacere. Il comunismo e il fascismo non esistono più. L'unico nemico rimasto è il liberal capitalismo, non solo come strumento di oppressione economica e sociologica, ma come religione del pensiero unico e dogma della globalizzazione. Sottolineo, importantissimo questo, liberal capitalismo è religione del pensiero unico e dogma della globalizzazione. Andiamo avanti. L'intervistatore. Quindi è in corso una battaglia a livello superiore rispetto ai paradigmi finanziari che ci vengono quotidianamente elencati? Risposta. Sicuro, questa è la guerra delle idee che deve essere portata nel campo dello spirito. Si potrebbe dire dal campo dello spirito in quello metafisico. È la lotta per l'uomo contro l'egoismo individualista, la lotta per la comunità contro la disgregazione della società, la lotta per la sovranità delle persone e delle nazioni contro la dissoluzione dei singoli stati. Ma la sinistra genericamente intesa continua ad attaccare tutti coloro che si posizionano su questa linea, abbracciando invece il buonismo progressista, il sentimentalismo umanitarista, i diritti dell'individuo e le pulsioni delle minoranze. Domanda. Come interrompere questa impostazione ideologica che sembra inossidabile? Dugin. La sinistra, come la destra e il centro, sono supposizioni di retroguardia. Ragionano con concetti ottocenteschi, mentre il liberalismo ha ipnotizzato le loro menti e obnubilato le loro coscienze. Tutti caduti nella trappola illusoria della libertà, mentre siamo immersi nella terza forma totalitaria, quella della dittatura liberale. Questa forma tirannica, postmodernista, considera nemici tutti coloro che mettono in discussione il suo potere. Bisogna agire con coloro che sono liberi dalla soggezione del potere. Per questo siamo pericolosi. Perché non siamo inquadrabili. Domanda. Dunque ogni alleanza potrebbe essere condivisa in questa guerra contro un nemico pervasivo e condizionante. Dugin. Certamente. Ci sono pensatori critici in ogni posizionamento politico. L'operazione è di coordinare le forze affinché ciascuno possa portare il suo contributo di storia, pensiero, in una resistenza organica contro questo dominio disumanizzante. Domanda. Ma tutti parlano di umanità? Come un mantra magnetico per sedare i propri problemi psichici, le proprie paure? Questa umanità è da superare? Dugin. Questa umanità è già superata da tempo. Siamo nel post-umanesimo. Tra poco i diritti dell'uomo saranno superati dai diritti dei cyborg. Chi crede di essere libero inganna se stesso. Siamo alla disumanizzazione dell'uomo, alla liberazione dall'uomo, non dell'uomo. Uomo e popolo, due enti di cui molti parlano, generalmente in maniera confusa, talvolta con spunti retorici, ultimamente con atteggiamenti di squalifica se non di demonizzazione. Domanda. Sono questi i fattori essenziali della battaglia da combattere? Dugin. Non c'è dubbio. Noi siamo per l'uomo, con i suoi legami comunitari fatti di storia, memoria, cultura e identità. Noi siamo con il popolo e per il popolo contro il liberal capitalismo, per fermare la sua marcia verso il baratro al quale ci sta portando. E' il popolo autentico portatore di sovranità. Domanda. Populismo e sovranismo, due categorie che la sinistra dell'Italia, per quanto ci riguarda, usa come indicatori di mentalità ignorante, plebea, anomala, retriva e insulti vari. Come rispondere? Dugin. Leggere, studiare, confrontarsi e lavorare su di sé. La sinistra benestante e di potere ha tradito il popolo, in varie nazioni, non solo in Italia. Ma in maniera diffusa, negli Stati e nelle diverse strutture societarie, il sentimento di ribellione è sempre più pressante. Deve essere chiaro che il post-liberalismo è contro il popolo, usurpa il concetto stesso di popolo, lo indica come un agglomerato di individui, mentre esso è un sistema organico o un'entità esistenziale. La sinistra, prima o poi, sarà costretta a capire, a proprie spese, quale sia stato e sia il nemico. Un'ultima domanda. Cosa si intende per soggetto radicale? Dugin è colui che sa per cosa vivere e per cosa combattere, che ha la coscienza di sé e della comunità di appartenenza, che non cerca un centro di gravità, ma che lui è centro e il Signore di sé, che non cerca una entità superiore, ma che ha il divino dentro di sé. È un uomo che appartiene a un passato, che combatte nel presente e che ha un destino in cui credere e da costruire. Ora, cari amiche e cari amici, si può essere d'accordo o meno con queste riflessioni di Dugin, che in ogni caso vengono da una mente veramente brillante e quindi, come tutte le menti brillanti, indipendentemente da loro posizionarci a destra, a sinistra o oltre la destra e la sinistra, danno magnifici spunti di riflessione. E' un dato di fatto che con questa situazione che si è venuta a creare con il coronavirus molti nodi stanno venendo al pettine. Ad esempio l'inefficacia del libero mercato, o meglio, la concezione del libero mercato che ha come base l'individualismo e la mancanza di solidarietà tra le persone, è quella che ci ha portato in questa situazione disastrosa, perché, l'ho detto in molti miei video e soprattutto in una playlist sul liberismo, il vero nemico da combattere è il liberismo, perché porta alla disgregazione sociale, alla atomizzazione dell'individuo e dunque porta e ci ha portato alla catastrofe che stiamo vivendo. Sì, teoricamente è bello il mondo senza frontiere, vogliamoci bene, non bisogna fare distinzioni tra popoli, le mescolanze, ma perfino Bergoglio ha invitato molte volte alle mescolanze. Però tenete presente che tutto questo tipo di mentalità parte dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti nascono veramente da una feccia di europei che per vari motivi, o per persecuzioni religiose o alla ricerca di beni materiali, vanno negli attuali Stati Uniti, commettono il vero olocausto della storia che è quello dei nativi americani e dunque si ritrovano ad occupare una terra senza tradizione e senza storia. Il liberismo ha necessità proprio di affermarsi in popoli che non devono avere tradizioni, non devono avere una propria storia, o meglio, i popoli inevitabilmente hanno una propria storia, ma questa deve essere assolutamente cancellata nella concezione liberista e così devono essere cancellate anche le identità, identità sia di popolo che individuale. Un genere, con i miei allievi, utilizzo un esempio molto banale, che se vuoi vendere i jeans in tutto il mondo devi necessariamente far levare il burka alle donne islamiche, altrimenti non compreranno mai quel jeans. Questa situazione si è dimostrata fallimentare, si è dimostrata destrutturante e è lealmente, come accennava Dugin, contro il popolo proprio perché usurpa il concetto stesso di popolo. Il liberismo vede un popolo come una società atomizzata, un agglomerato di individui e non come una comunità, quindi un insieme organico. La sinistra ha contribuito in maniera determinante, soprattutto qui in Italia, ma il discorso potrebbe essere esteso a tutta Europa e non solo, a questa destrutturazione esaltando proprio il liberare il capitalismo e accogliendolo nella sua visione dell'esistenza. Basti pensare che attualmente il governo PD e 5 Stelle non sono altro che dei camerieri, dei servitori dell'alta finanza, dei banchieri e di quelli che Giulietto Chiesa ha giustamente chiamato in modo molto efficace i padroni del mondo. Ora noi stiamo vivendo questa esperienza del coronavirus e proprio ieri in un hangout i miei allievi mi chiedevano come andrà a finire secondo te. Io non posso ovviamente dare posizioni ben precise e delineate riguardante il futuro, ma delle indicazioni di massima sì, perché studiando la dottrina tradizionale e soprattutto meditando e quindi aprendosi a intuizioni che sono sovrarazionali, per esempio già fino a un paio di anni fa dicevo ai miei allievi che guardate che è la catastrofe che ci sarà, perché secondo gli studi tradizionali questa catastrofe era prevista. Non so se io la vedrò data la mia età, ma voi giovani, nel sangra sono quasi tutti molto giovani, la vedrete sicuramente. Poi da un anno a questa parte, vista l'accelerazione che ha preso soprattutto in occidente, ma che poi ha rimbalzato un po' in tutto il mondo, all'andare contro la natura. Allora ho cominciato a dire, cari amici, io la vedrò con voi questa catastrofe, perché da qui a non molto, vista l'accelerazione che ha preso la dimensione del male, la dimensione diabolica. Questo tipo di accelerazione, secondo gli studi tradizionali, indica proprio il salto, il salto nella catastrofe, cioè il vivere la catastrofe per poi ritrovarsi in un mondo nuovo. Qui il problema è che la catastrofe adesso la stiamo vivendo, ed è questa del coronavirus. come se ne uscirà? Ecco, secondo la visione tradizionale, questo dipende da noi, da come tutto il mondo, perché è la prima volta che una pandemia riguarda veramente tutto, tutto il mondo. Anticamente ci sono state, ad esempio la peste del Trecento era stata portata da alcuni topi che avevano viaggiato sulle navi e veniva sempre dalle zone proprio dell'Himalaya e comunque veniva dall'Oriente e così via. Ma per la prima volta una peste non riguarda, ad esempio, solo l'Europa, come è stata nella peste descritta, ad esempio, dal Manzoni, ma riguarda tutto il mondo. E allora, secondo la visione tradizionale, tutto è uno. Noi siamo collegati interiormente gli uni, gli altri, volente o non volente. Chi è cieco non si rende conto di questo. Chi ha sviluppato l'occhio interiore e non vede solo tutto in termini di materia e economia, ma riesce a percepire anche le situazioni interiori degli altri e anche la dimensione dell'interiorità collettiva, ebbene noi ci troviamo con questa clausura del coronavirus in una grandissima occasione. Ma questa situazione può portarci a un'ulteriore catastrofe che si aggiungerà a questa del coronavirus o veramente a un cambiamento dell'intera umanità. Ma questo dipende esclusivamente da noi e dalle nostre riflessioni in questo periodo. Perché, come esiste un inconscio individuale, esiste anche un inconscio collettivo. E quindi la prima cosa da avere chiara è il ribaltamento di una situazione demonica o demoniaca, che è la posizione dei liberisti, che vedono la crisi come strettamente legata a problemi di finanza e di economia. Una visione spirituale, invece, tradizionale, vede che le crisi possono essere in atto solamente se alla radice ci sono dei problemi spirituali. E quindi l'Occidente, già lo scriveva nei primi del Novecento René Gnon, che l'Occidente è una società che per la prima volta nella storia dell'umanità si è distaccata dal sacro e non ha fondato se stessa sul sacro. Questo ha comportato la frammentazione e, di conseguenza, anche la visione liberista si è innestata su questa crisi spirituale di un atteggiamento prometeico di un uomo che non vuole vedere Dio, non vuole avere più relazioni con la dimensione trascendente e metafisica e, detto in parole semplicissime, vuole fare da solo. Ecco, questo atteggiamento di sfida a Dio, di sfida agli dèi, è quello che stiamo pagando amaramente. Di conseguenza, o questa occasione di una enorme clausura collettiva ci porterà a comprendere l'assurdità del liberismo, l'assurdità del riproporre una situazione dove si esaltano gli individui e ci si disinteressa degli altri, a partire dagli ultimi e dai poveri. O si cambia questo modo di essere e quindi si fanno circolare pensieri, perché la circolazione dei pensieri è importante. Pensate a quanto hanno terrorizzato in mass media tutto il popolo attraverso la circolazione di questi pensieri paranoici che hanno messo in atto rispetto al coronavirus. Quindi tutto ciò che è materia nasce dal pensiero. Anche il computer che avete davanti è nato dal pensiero di qualcuno. I vestiti che indossati, quella forma, quel colore, sono nati dal pensiero di qualcuno. Quindi il nostro pensiero collettivo, secondo la visione tradizionale e soprattutto secondo i miei studi, il nostro pensiero collettivo determinerà gli eventi collettivi che dovremo affrontare. Allora, se in questo periodo riusciremo a far frutto di questa usura prolungata e quindi ci orienteremo e comprenderemo l'assurdità della vita che stavamo conducendo, che conducendo non si può vivere per la maglietta firmata, per un consumo compulsivo, con delle cuffiette che ci isolano dal mondo esterno anche quando stiamo per strada e ci rendono impossibile una comunicazione con gli altri umana. Ecco, o ci si rende conto di questo e rendersi conto di questo significa anche cominciare a riscoprire la propria umanità e secondo il motto evangelico che tutti siamo uno e che il Regno dei Cieli è dentro di noi e quindi orientarci nuovamente verso il Regno dei Cieli, inteso come dimensione sacra che può essere condivisa collettivamente, o facciamo questo o se i nostri pensieri si orienteranno ancora, proprio vittime anche delle suggestioni che continuano a mandarci attraverso i risultati delle borse, l'economia, la finanza e quindi di mettere l'economia al primo posto e si uscirà dal coronavirus con un'ulteriore catastrofe che coinvolgerà il mondo intero. Dunque ciascuno può dare il suo contributo. Mia nonna mi diceva sempre Marco Cosmo con le molliche si fanno le pagnotte e quindi ecco, almeno gli amici che sono iscritti al decimo toro e se sono iscritti al decimo toro vuol dire che sono disposti a rimettersi in discussione e ad acquisire anche una nuova visione della realtà che non sia quella banale, quella del condizionamento che ci viene propinata ormai da decenni, ebbene ognuno può fare la sua. Come può fare la sua? Attraverso l'introspezione. Nel caso per esempio i miei allievi di meditazione stanno meditando moltissimo in questo periodo, il confronto poi è continuo anche perché do insegnamenti tutti i giorni ai miei allievi proprio visto che siamo reclusi in casa tutti quanti e tutti abbiamo visto questa reclusione come una benedizione proprio perché ci consente di condividere di più, di vivere la nostra vita comunitaria e le nostre condivisioni in maniera maggiore e questo dovrebbe coinvolgere un po' tutti, cioè non dico che tutti debbano meditare perché la meditazione è un percorso che non è un percorso per tutti e poi richiede la presenza di un maestro, una guida costante, però ecco la preghiera ad esempio, dedicarsi veramente alla preghiera ad approfondire le sacre scritture, cercare ognuno con la sua mollichella per fare una pagnotta di recuperare il senso del sacro e se ognuno darà il suo piccolo contributo noi ci prepariamo a vivere sicuramente un periodo difficile perché ci saranno dei problemi economici disastrosi ma ci rimboccheremo le maniche e se riscopriremo il senso di umanità riusciremo ad uscire a testa alta anche con grandi esempi di rinuncia e solidarietà. Se invece ci ostineremo a ripercorrere le strade che già ci hanno portato in questo baratro, in questo precipizio e tenteremo in qualche modo di riproporre la società fondata sulla finanza, sull'economia, sui soldi, sui consumatori compulsivi e sulla prospettiva diabolica liberal capitalista, ebbene dovremo affrontare un ulteriore catastrofe che questa volta sarà veramente devastante. Bene cari amiche e cari amici, queste volevano essere delle piccole riflessioni che vi propongo. Se siete d'accordo con queste riflessioni condividete questi video. Guardate, è importante perché i video del Decimo Toro, chi è iscritto al canale, chi li segue da un po' sa che sono video veramente molto originali in quanto stimolano alla riflessione e alla introspezione e non fanno analisi legati semplicemente agli aspetti più materiali e più visibili e apparenti delle situazioni. Bene cari amiche e cari amici, un pollice su per il mio lavoro, sempre incollati al Decimo Toro, Dio vi benedica. Riscopriamo il senso del sacro. Ciao.